L'appello è rivolto a tutti gli studenti marchigiani per far sì che il maggior numero possibile di questi si sottoponga al tampone rapido nei punti di screening già presenti sul territorio senza alcuna prenotazione. Lo stesso invito è rivolto anche ai docenti e al personale ATA e arriva dai consiglieri regionali di centrodestra Luca Serfilippi, Nicola Baiocchi e Giacomo Russi che questa mattina hanno illustrato la proposta di fronte al Palavitri di Montecchio, la palestra comunale del comune di Vallefoglia in cui già da sabato scorso è partito lo screening di massa rivolto alla popolazione locale. Ci tenevamo a ringraziare innanzitutto gli operatori e i volontari sia dell'area vasta che della Croce Rossa e della protezione civile per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo in tutta la nostra provincia. Detto questo l'invito che oggi rivolgiamo in particolar modo agli studenti delle scuole superiori di tamponarsi sia qui al Palavitri oggi e domani sia negli altri punti di screening, ad esempio a Fermignano partirà dal 23 al 27, quindi ogni studente di qualsiasi città può tranquillamente venire a tamponarsi, non solo gli studenti ma anche il personale docente e il personale ATA. Questo perché prevediamo il prima possibile, sapremo tra oggi e domani se da lunedì 25 gli studenti potranno tornare nelle scuole superiori in base all'indice RT e ai dati che ci pervengono dalle terapea intensive. Invito il sindaco Ricci che in questi giorni abbiamo visto molto attivo per quanto riguarda questa iniziativa dei tamponi rapidi nei pressi delle scuole, purtroppo sappiamo che il personale è limitato, quindi in questo momento stiamo facendo da una parte i tamponi rapidi e dall'altra abbiamo già iniziato, siamo i primi in Italia per la campagna delle vaccinazioni se arriveranno questi benedetti vaccini. Quindi togliere personale da qui per metterlo nelle scuole significherebbe rallentare la campagna vaccinale e non tamponare tutti gli altri comuni che hanno gli stessi diritti di Fano, Pesero e Urbino. Quindi noi abbiamo sempre detto che ci teniamo anche i piccoli comuni, quindi stiamo proseguendo lo screening anche in questi piccoli comuni, dell'entroterra e non solo e dall'altro invitiamo e concludo gli studenti veramente a tamponarsi e quindi venire a fare il tampone rapido. Grazie.